Ringrazio il Presidente Bresso, mi congratulo con il Presidente Lamberts sia per la sua elezione a Presidente del gruppo socialista nel Comitato delle Regioni, sia per il successo del suo importante parere. Vorrei innanzitutto sottolineare un fatto per me assolutamente rilevante, a fronte del sentimento di impotenza che il fallimento dei vertici planetari sulle questioni ambientali producono, il progressivo coinvolgimento della democrazia del territorio, degli enti locali, dei comuni, delle Regioni, nella implementazione della consapevolezza della crisi ecologica del pianeta, produce buone pratiche, parole nuove, atti che in qualche maniera cominciano a pesare in forma crescente sulla bilancia delle decisioni politiche. La Commissione europea, con la Presidenza ungherese, aveva chiesto al Comitato delle Regioni un parere di prospettiva sul tema dell'acqua, dei modelli di governance. Immaginare un parere unificante rispetto alle diverse problematiche, alle diverse criticità che vivono i diversi territori d'Europa è stata l'esperienza che ci ha portato a scrivere, imparando dalle diverse regioni, dai diversi territori, conoscendo le peculiarità e le differenze. Ci sono Regioni d'Europa in cui il problema è la carenza assoluta d'acqua. La mia Regione, grande del Mezzogiorno d'Italia, è priva di fonti di approvvigionamento idrico. Il problema è la carenza, il problema è talvolta la siccità. Ci sono altre Regioni d'Europa in cui il problema è la sovrabbondanza. Vorrei dire che in molte Regioni ci sono tutte e due i problemi che si intrecciano, quando c'è la carenza e quando c'è la sovrabbondanza, soprattutto dovuta alla concentrazione in forme alluvionali delle precipitazioni. Quindi l'acqua rischia di essere, come posso dire, un luogo dei paradossi. Si muore di sete e si muore affogati contemporaneamente, allora bisogna costruire una politica dell'acqua. Il punto di partenza è legato a un principio fondamentale stabilito dalle Nazioni Unite e che deve ispirare tutte le politiche pubbliche. L'acqua integra il diritto alla vita. L'acqua è un diritto universale, naturale, inalienabile, è un diritto della persona. E l'acqua non può che essere considerato un bene comune, non una merce. Ecco, questo principio non può essere negoziabile, deve ispirare tutte le politiche. È, diciamo così, il fil rouge che lega tutti i pensieri di questo parere di prospettiva. C'è una conseguenza molto importante. L'acqua non può che prospettare una politica globale e integrata. Parlare di acqua significa parlare dell'approvvigionamento idrico dei vari comparti economici. Acqua è industria, acqua e agricoltura, acqua e turismo. E quindi non si può non osservare la necessità di produrre efficienza ed efficacia nella distribuzione dell'acqua in tutti i comparti economici. L'acqua è un problema però anche di modelli comportamentali, è un problema legato ai costumi. L'educazione a un consumo sobrio, consapevole, responsabile di una risorsa scarsa, in un pianeta in cui ci sono centinaia di milioni di esseri umani che non hanno diritto all'acqua potabile, che non esercitano questo diritto, beh, insomma, è un problema fondamentale. Noi abbiamo immaginato di introdurre un principio che riguarda anche la tariffazione. Il principio che nella produzione legislativa europea in materia ambientale è stato scolpito da più norme è quello del chi inquina paga. È un principio fondamentale. Noi vogliamo aggiungere un altro principio. chi spreca paga. La tariffazione deve in qualche maniera seguire questo binario. Da un lato la progressività, chi più ha più paga, chi ha più ricchezza più deve pagare, ma dall'altro chi più spreca più paga. Ecco, questo equilibrio tra la progressività di carattere sociale è un intervento teso, diciamo, a responsabilizzare rispetto a un certo consumismo idrico, mi pare molto importante. Un altro principio per me abbastanza importante è quello legato alla solidarietà tra diversi territori. La solidarietà non è soltanto un principio dettato dal buon cuore. È un principio di realtà, perché l'acqua non può essere regolamentata secondo barriere burocratico-amministrative. I fiumi attraversano le regioni, attraversano le nazioni. L'acqua deve essere organizzata nelle politiche pubbliche a partire dai bacini idrografici e secondo il principio della solidarietà tra diversi territori. Appunto, un territorio grande come il mio, una regione di oltre 4 milioni di abitanti con 800 chilometri di costa senza fonti di approvvigionamento idrico, non può essere Europa se non può agganciarsi al principio di solidarietà che spinge altre regioni a mettere a disposizione la risorsa che da noi è inesistente. Un ultimo punto abbastanza importante per me è quello legato alla necessità di conoscere l'acqua, cioè di conoscere il rapporto tra acqua e diversi territori. L'osservatorio idrico europeo è un luogo che supera il vecchio osservatorio sulla siccità e guadagna altre competenze. Conoscere l'acqua significa conoscere le caratteristiche geomorfologiche dei terreni, dei diversi territori, conoscere l'orografia, conoscere l'acqua e il crocevia di tantissimi fattori e quindi ha bisogno di una conoscenza multidisciplinare. Noi pensiamo di aver dato alla Commissione europea strumenti per poter aggiornare continuamente la produzione legislativa a livello di vecchio continente su un tema che sempre meno deve costituire un problema e sempre più deve essere inteso come una risorsa, ma la risorsa acqua quando è sovrabbondante o quando è scarsa purtroppo costituisce un problema. Questa è la ragione per cui in sei mesi abbiamo lavorato intensamente arricchendo molto la nostra conoscenza del problema e questo è quello che ci sentiamo di offrire con il voto la larghissima maggioranza del Comitato delle Regioni alla Commissione europea.